Che l'Italia fosse un paese di disastri annunciati, questo lo abbiamo detto a gran voce da tanti anni. Purtroppo l'ennesima tragedia si è abbattuta su Ischia, dove un nubifraggio ha causato una frana e ha causato diverse vittime. Ricordiamo che già qualche mese fa ad Ancona era accaduto lo stesso, a Stromboli solo il caso scongiurato la tragedia. E in tutto il territorio italiano, purtroppo, ahimè, senza prevenzione e messe in sicurezza del territorio, potrebbero verificarsi altri accadimenti simili. Noi come Vigili del Fuoco, a cui va un plauso per il grosso lavoro, portiamo la massima solidarietà purtroppo a chi sta soffrendo. Il nostro lavoro è ingomiabile. Vorremmo che la politica e la nostra amministrazione capisse che abbiamo necessità di avere più uomini e più mezzi adeguati anche a fronteggiare queste emergenze. Ci auspichiamo che questi eventi siano da monito per la politica, per intervenire nel territorio e metterlo in sicurezza. Perché oltre ai nubifraggi ricordiamo che il territorio italiano è ad alto rischio sismico e ad alto rischio incendi. Ogni anno i danni sono veramente abnormi. L'Italia è un territorio debole fondato sui Vigili del Fuoco. E se non si investe sulla prevenzione, messa in sicurezza e sul soccorso tecnico urgente, purtroppo negli anni torneremo a riparlare sempre delle stesse tragedie già annunciate.